benvenuti sulla televisione web io sono mister rufus e oggi sono qui per presentarvi una nuovissima trasmissione che partirà a breve ma prima di dirvi di che trasmissione si tratta voglio introdurre l'ospite che abbiamo al telefono valentina casati ciao valentina come stai ciao mister rufus bene e voi qui tutti bene qui tutti bene siamo comunque qui in trepidazione in trepida attesa di capire che trasmissione partirà e quindi lascio l'onore di dire che trasmissione soprattutto il titolo di questa trasmissione lo lascio appunto l'onore a te benissimo allora la grande anticipazione è questa trasmissione che si chiamerà pochi ma cuochi ed è una trasmissione culinaria di stampo quindi gastronomico che vuole un po' avvicinare tutti quanti in modo simpatico ironico al mondo dei vegetariani un po' per doganare un po' la loro la loro immagine quindi niente bisteccazze o hamburger o booster niente fiorentine hamburger out dog niente di tutto questo però delle alternative ma non noiose alternative veloci economiche che possono fare tutti che verranno presentate in un modo un po' originale come sai come possono vedere anche chi ci sta seguendo in questo momento sono una buona forchetta io quindi parlare di vegetariani un po mi spavento invece mi puoi dire che sto devo stare tranquillo sono tranquillo che esco dopo la trasmissione con la pancia piena assolutamente sì anche perché guarda io non sono da meno cioè proprio non sono una di quelle vegetariane classiche sono una buona forchetta quindi ci tengo faccio delle cose molto semplici e sane ma decisamente valide gustose ok stiamo vedendo le immagini in questo momento appunto di pochi maccuochi c'è altra gente insieme a testo vedendo chi sono se ce li puoi presentare certo allora loro sono i miei amici i miei aiutanti speciali in cucina loro sono un trio e sono mac chef e aieie sono i miei appunto tre aiutanti speciali perché come ti dicevo prima non sono solo delle semplici ricette in formato video perché come sai insomma è un po anche un mercato un po' anzio azionato no si vedono ricette tutti i giorni da chiunque noi abbiamo cercato di presentarli in modo in modo diverso in modo anche più ironico e in modo che più gente possa vederli in simpatia perfetto bene bene allora non ci resta quindi che aspettare l'arrivo di pochi maccuochi che è imminente tra pochissimi giorni finalmente vedremo la prima puntata di pochi maccuochi valentina che altro dire se non grazie mille del collegamento e aspettiamo allora le prossime ricette e di riempirci la pancia con le tue va bene seguitemi grazie grazie a te valentina e grazie a voi di averci grazie a voi appunto di averci seguito e quindi pochi maccuochi a brevissimo sulla televisione web grazie a tutti